Questi edifici, oltre a aver subito i danni di essere stato sfollato, sono persone che hanno delle vulnerabilità, delle fragilità già in partenza, disabili, persone con una situazione economica non facile da affrontare, quindi è un problema, persone anziane. Ho incontrato oggi anche il commissario dell'Ater, ho sollecitato a dare un'accelerazione, so che già sono partite con alcune progettazioni, in questo momento sta avvenendo un cambio di passo, adesso mi sono messo anche a disposizione per alcune modifiche normative che possono agevolare e accelerare i tempi, in particolare sull'affidamento delle progettazioni, che possano essere fatti in tempi più rapidi e il dimezzamento dei tempi per quelli intermedi tra l'affidamento una gara, l'inizio di una gara e poi il relativo affidamento. In due anni non si è vista, una gruma non si è vista niente, in due anni credo che forse prima o poi una bella commissione d'inchiesta per capire che cosa hanno fatto in questi due anni, chi ha diretto i vari uffici, perché quello che sto percependo adesso è l'esasperazione dei cittadini ha portato gli uffici a cambiare passo e quindi oggi all'Ater abbiamo commissario, all'USR abbiamo un nuovo dirigente, all'USR Lazio abbiamo un nuovo dirigente e così avviene nelle varie regioni e sta cambiando il passo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato fin dall'inizio e chi non ha fatto funzionare qualcuno a un certo punto si è reso conto, chiaramente in un problema. Le responsabilità delle regioni sono enormi, questa governance era decisa per dare alle regioni autonomia nel gestire la propria fetta di soldi stanziati, perché di questo stiamo parlando, le regioni e l'Abruzzo in particolare e la gestita male, questo è un fatto. Lo dico ai cittadini, non voglio distrarmi nel cercare i responsabili, ci sarà un momento storico in cui i responsabili saranno tutti trovati adesso è il momento di ricostruire, prima dobbiamo dare le risposte ai cittadini, quindi sto cercando anche in questi incontri di mettere da parte la colpa di Tizio, di Caio, perché significa poi andare a perdere tempo a cercare i responsabili piuttosto che a cercare soluzioni. In questi giorni stiamo cercando soluzioni e a breve faremo delle modifiche normative importanti. Da qui a Roma com'è possibile un'accelerazione per questa drammatica vicenda? Bisogna fare scelte coraggiose, questo è, bisogna fare scelte coraggiose. Scelte coraggiose oggi noi ci possiamo permettere di fare, l'abbiamo dimostrato con anche il decreto emergenza visto con le norme nazionali che abbiamo fatto, e tutti ci dicevano che non si potevano fare, si possono fare alcune scelte coraggiose, le faremo. Scelte di deroghe per determinate procedure, scelte di accelerazione, scelte di semplificazione di alcune procedure, partendo con i protocolli ovviamente per i controlli, con la guardia di finanza, le procure che sono sempre attive. Oggi si può iniziare in qualche modo a fare cose un po' più di accelerazione. C'è una speranza per questi sfollati di termo e delle case a terra in particolare? Credo proprio di sì, nel senso che in questo momento, parlando col commissario, ho dato il mio contatto diretto per cercare di seguire direttamente la situazione e capire anche se serve un supporto normativo, avranno anche il supporto normativo, quindi non ci sono più scuse. Dobbiamo mettere nelle condizioni i soggetti attuatori che non ci siano più scuse, non ci deve essere più l'ente pubblico regione che dice mi manca il personale, la burocrazia, i troppi controlli. No, dobbiamo togliere tutti questi paletti, togliere tutte queste scuse e ognuno si assume la responsabilità però e le regioni adesso devono operare.